Tutti quanti qui, tutti quanti qui E la notificazione alliegato Ho il solo, Domingo Rebelde, Singes A ver, donde sta la chat Donde Prova A ver, donde sta la chat Perfetto Hola chicos, ciao chicos Oggi avrete un ritardo Nell'immagine e in tutto Perché ho provato a cambiare un'impostazione A vedere se per caso Riusciamo A fare meglio Le cose Foxy Foxy Ora Non sta gesto conmigo A ver, tenemos un pequeño retraso Volontario E vamos a ver Chicos Se mi aiutais con la chat Se alguien no juega Mi hacesse un favor Ai Robin Ai Robin Ai Robin O O O Bella Che tal? Che tal Kelly? io qui con cocco oggi è un dia rebelde io e cocco solo faremo fiesta a stessa tardi non comeremo palomitas mas tardi hijo di frutta ora non cuore, adesso si, perfetto io te spererei no si, perfetto, la ora wow no no, Laura, ora, second time miss platmi Laura, thank you so much ah, claro, non tengo la perk, il resto vuoi, ma si, mi termina molto veloce, l'avventura ciao cocco, c'è cocco, c'è cocco, c'è cocco al lato mio ragazzi che tiene compagnia no, 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 hola a ver, a vosotros se ha legato la notificazione? no a te anche, sve, ti è arrivata la notifica? no 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 perfetto eh, si, noni, puoi d'entrarsi, un problema a meno perfetto grande youtube, grazie youtube youtube mi è incantato de de star contigo sempre il dia del domingo il dia del domingo claramente il dia del domingo la notificazione è legata solo a un mobile, no? però passa nada passa nada la persona si va a interrar Laura, Laura Laura, Laura sperai che voglio dare un Discord online perché la persona lo sepan online perfetto a ver se si connette algunas personas más ok qui 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 un secondo chicos uuuu cochino uuuu Che c'è? Cocchino basta Boh Yoshi E Yoshi mi ha pisciato Cocchino Come cocchino? Che vuoi dire? Cocchino No, 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 Laura Quiet Laura Tranquilla Kelly, tranquilla Tranquilla Cada uno tiene la propria tarea Uuuu 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 Laura, Laura no No, 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 Laura Ciao Miguel Hola Lost Bienvenido Bienvenido a nuestro canal Buuuu No, no me lo creo, no me lo creo Victor, hola, hola Que hace? Juegas Lost? Tiene la Switch? No tiene la Switch? Me agregas? No me agregas? Aspetta Cosa vuoi dire aspettami? Michele Michele Cosa vuoi dire aspettami? Michele Cosa vuoi dire aspettami? Ah, entonces hoy voy a hablar solo italiano y español Y nada más Nada más E cochino Nosotros hablamos solo español y italiano Aspettami Aspettami Ti prego Aspettami Amore mio La solitudine Vamonos Victor Doc Donde esta Laura? Laura Chiero Michi Chiero Michi Neon Beer Chiero Michi Chiero Michi Donde sta Michi? Hola Lollo Boom Le storie ne spera Te veo Boom Lollo Boom Chiero privada? Io no Pintea Igor Pintea Hola account Siamo salvi Ragazzi Salutate Lollo Completo Coco Che passa? Calabassa? Eh? Basta luego? Corta fuego? Io sono Michele E io sono Michele Io sono Michele Piri 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 Sono Lorenzo Piacere Salutate Lorenzo Ciao Lorenzo Ehhh 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 Bravo Beer Bravo Bravo Beer Piacere Lorenzo Io mi chiamo Scrivania Io sono Stefano Scrivania Stefano il cognome Scrivania il nome Come si scrive? Scriva Ehhh No 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 Dock Dock I'm coming Joshua I'm waiting Ciao Lorenzo Benvenuto al canale Se anche tu sei qui per l'alcol Ehhh Sappi che da noi I vizi non vengono calcolati Ma verranno trasformati in pregi No 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 Se vê che sono la la primera partida Que hace 10 minutos che juegos Che juegos No 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 tengo ni los dedos por Piri Piri No, no Laura Laura ¿Por qué me haces esto? Wai Laura Yo gimme Lolo Lolo ti chiameremo Lollo ciao a tutti ciao a tutti a tutti cantare una canzone è pieno io lo so Joshua è pieno ma never give up continue to try no 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 Victor aveva terminato l'inchiostro Victor Lollo ti ammazzo t'ammazzo ti ammazzo vorrei fare la papa tua madre col pennello quindi ragazzi ok Gabi ti speriamo tranquillo basta con questa Lollo eh bam bam vittoria mitica il dottore vince e tutti gli altri perdono il codice amico lo tengo e te lo dico perché io e te non siamo amici no Lollo tre euro per il codice amico tre euro per il codice amico e cinque euro se vuoi che te lo metto io il codice amico Thor Hector eccolo questo è l'igo di che chiedo io l'igo di Thor Robin uhuuu tenemos tambien noni ah mira todo todo nosotros eh chicos we have a complete room no jail pool no a me i tre euro media dato pintea grazie sui Thor si si Victor lo sappia lo sappia me lo immaginava perché hai solo un Thor e l'altro è Victor uh pen 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 wow sarc e Thor Thor cumple il cumple Thor vamos davanti davanti non me lo creo fantastico bravo Noni bravo bene no boom e non va Noni secondo me è schermata no 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 molto più tardi che 8 se arriva per le 10 meno un quarto arriverà wow non mi trovi più nella console non lo so quanti giorni è che non giocavi? non mi sembra di averti cancellato va bene se non hai cambiato nome tu e ti ho cancellato non lo so però non mi sembra di averti cancellato se hai cambiato nome può essere che ho visto qualcuno che non gioca da più di 5 giorni e ti ho cancellato però è difficile che cancello un igodi yes yes Joshua ti svegli poi domani mattina tutto bagnato nel letto e ti rendi conto che è solo un sogno e basta è giusto oh 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 wow 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 eh dai 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 ciao Davide eh Lollo no scusa ma Lollo deciditi prima mi dici di cancellarti poi mi dici di non cancellarti cioè in un livello mi hai detto che ti devo cancellare qualcuno usa il tuo account questo account Lollo dimmi fammi capire tuo fratello perché a questo punto ha le Lollo e cazzate varie forse maldito seas e il pezzo dorato sì è chiaro Davide adesso lascio lascio la stanza e arrivo in Rocket League no non ce la faccio adesso quello quel gioco lì lo faccio in privato capi io ti invito dopo mi insegni a usarlo bene perché io ogni volta che entro mi viene nervoso perché mi arrivano mille inviti boom 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 uno dietro l'altro capito uno una stanza uno a sto cazzo io voglio giocare succede sempre che non gioco perché mi viene nervoso 5.000 inviti e boh sì 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 fanculo chiederei la devoluzione dei soldi perché invita a sta ceppa di di fagiolo no oh la Giovanna ho trovato facebook di mio fratello sulla switch che tal sì Giovanna però parla sola io te lo dico cioè che non ti speras che che ti contesto perché oggi chiedo parla solo il dosi dioma e non la massa porfi non la massa non la massa non la massa oh mio dios oh mio dios oh mio dios oh mio dios wow wow robin perfect good shot it does let me join e denuncia lorolo denuncia alle autorità così almeno non ti rompe più le palle e tra le altre cose ripeto ripeto mi sa tanto che usava il tuo il tuo account youtube perché mi hai detto di cancellarlo ora no Laura perfetto Laura grazie Giovanna no perché no no non sei non sei solo intonse eh hablar con in inglese eh chicos chicos creo che un tío si ha disconnettato no no aún lo tenemos perfetto vamonos chico ha un tre tre partito en 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 amistosa y después faremo un privado ragazzi faccio ancora due partite o massimo tre in in questa modalità e poi e poi iniziamo a fare le private we start private in 10 minutes e impiessamo la privada in 10 minutes más o menos chicos por qué 18 personas y solo 2 like vamos con los like dai 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 ragazzi 18 persone pochi like forza facciamo vedere a Jessica che facciamo le cose bene quando non c'è abbiamo anche un subscritto Ross queda un enchufe me quiero enchufar mira ahora mismo estamos haciendo Gabi estamos terminando quiero hacer mi ronda de dinero así puede ser que puedo cambiar también la arma y todos nosotros all people in the streaming are inside the room wow dai dai datele al like 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 for Jess no no for me después cuando viene Jess le digo mira mira che live perfetta che ho hecho mira quanto like tenemos no dove c'ho todo yo chicos datele al like chicos no no respiro chicos iscriviti per favore a discord e ai codici amici delle persone dai fai sto favore all'umanità non chiedere codici amici nelle mie stanze che non esistono ah comunque igualmente lo lo scaricate discord discord vale Johanna mira esta una sono amici dos entonces eh voy a seguir un par de partida aquí porque necesito de un poquito de dinero porque no tengo nada tía porfis entonces intentare a entrare aquí ah sí diez minutos o fucare no eh eh perfetto se non sai usare ho fatto una guida lo lo impara dalla guida che ho fatto è lì su discord entra nel canale e boh no 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 minchi se vuoi il codice in discord devi entrare in discord cioè se vuoi il tuo codice amico devi entrare in discord facciamo bene le cose così impara a usarlo quando non ci sono se volete giocare non avete la paranoia allora eh lo lo con che nome sei iscritto con che nome sei iscritto sei iscritto al server solo per sapere perché se non sei iscritto al server prima inizia a iscriverti al server sei iscritto lorenzo ok ma al server al server nostro sei iscritto avemo perdito abbiamo perdito eh just work she's working right now ehm Laura mi chiede tu puoi fare un invito aspetta al server aspetta che se posso farlo io qua hola caime non l'hai visto caime perdona caime non l'hai visto allora condividi link con note perfetto seleziona tutto copia seleziona azza whatsapp seleziona tutto copia perfetto ci siamo ci siamo ci siamo non passa il nada non puoi non puoi dimettermi tranquilla ioana non passa il nada come ti ha detto tuo amico vai a chi lollo clicca su questo indirizzo qui lollo e iscriviti al server se non ci sei ok hai capito ora tutto se hai alguien che non l'hai visto perdonai ma solo quello io non penso a nada mas pom 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 lolino madre mia si ioana se chiederebbe mi piacerà con Kuma grande bravissima si 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 oh no grande Sark bravissima Sark bravo 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 vale dice Jaime vale no non me lo creo ah ok Robin non è possibile scaricare l'app su questo tipo si ok eh Lollo hai scusa ma che cellulare hai così per sapere perché per non funzionare eh discord che mi funziona su un cellulare di sei anni fa penso che è un cellulare vecchio no no hola Caleb che tal wow 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 Sark boom boom Sark boom almeno mi saluta eh Caleb hola Johanna hola Katie io l'ho salutato dice hola Caleb però wow io 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 che passa che passa con Foxy che l'ha passato c'è cosa anche un po' di lo sape buscare e scrivere a ver che passa se busca Foxy a ver Foxy Foxy ma come che passa se busca Foxy claro che se busco Foxy 83 allora sempre tutto tutto nosotra si ah beh si è blocchiato qui questo è lo che vamos a incontrar Deep Web il mio piccino scarica boh no allora lascia stare sei troppo lontano dalla tecnologia e dall'essere social nananananananana nanananana nananananana nananananana nanananana nanananana sempre sulla stessa uuh dietro Robin tengo miedo tengo miedo adios 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 stavo di broma stai qui stai qui stai qui stai qui no è morto è morto è morto brava Laura Instagram ah si si fai le storie e quanti conti si è fatto su su 145.899 quanti sono tuoi di quelli account parliamo di numeri phantom pepe 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 no Robin without ink without ink i'm without ink yeah a voglia uno corri 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 tutti quanti seguitemi seguitemi ho voglia di no grande noni buon travaco qui c'è un muy muy bien muy limpio come travaco wow tua 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 boom no dos 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 è il nostro amico phantom è il nostro amico madonna mia e perché cazzo non mi fai un po' di pubblicità morto di fame di Instagram così tanto così tanti amici minchia non mi fai fare una live spopolona dai vergognati vergognati me ne vado me ne vado te lo giuro moderatori cacciate l'ollo claro ma stavo cucando tu no what that what you get doc lo scrivo sciroppo cade basso come l'MD io non cado basso sono ancora in piedi andiamo tutti quanti da come vale andata entonces allora io con codigo il codigo sera este 2873 non tengo idea niente del codigo che ho questo 20 20 20 l'estate si avvicino a te eh cocchino co 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 il bacio la scoregina come fa cocco no questa è jessica come fa cocco no allo mica sei tu eh come fa cocchino solo tre chicos eh i don't remember eh i don't remember allo italini 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 grande lolò cocco eh uno dos tres no dos tres por che me las esto ma a vos a vos a vos a vos quando dejais el mando va arriba una vez o abajo una vez tu ves va abajo ora no boh allora vamos quien quiere mirar siamo noni no y robin la primera lo che no son nico di esperan perdonai coquino basta chicos vamos a hacer dos o tres partidas y después cambiamos la la room renunciamo i can no join because the other yeah tor yes tor è il il grande tor ti do una testata basta no no aló non c'è jessica e allora lo 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 ma com' alló oh o le coccoline da Jessica vuole si che tipo perché Gabri è il meglio Thor in serio Victor è uguale Thor come non lo sape? perché te lo hai consegato e ti gustava a sé parte di tuo nome ostra vale che cosa? Vola Cocco tranquillo Non passa nada Non ti fa passare nada Mi pensava che il cooling fosse un cico Vale Come puoi diventarti al clan? Non è semplice Tu te lo supporti Tu te la persona che chiede a ponere Basta che lo poni Ti pone il nome Igodi Posta bene come lo nostro E poi se puoi Pone un spazio Entra la scritta Igodi E tuo nome E tu non metti neanche se era in maiuscolo Ok No ma come non è morto? Victo Come mi ha potuto morire? Grandioso Sì 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 Viena Viena Scucci 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 El habla Se io Ora Che dici cocco? Che dici cocco? No Ti baci? Come si dice ciao? Di ciao cocco Di ciao Mario Bros E Mario Bros E Mario Bros? No? Come lo? Non c'è Jessica? Bravo Che accetti la mia chiesta? Ma dove? Con chi stai parlando? Lollo Con chi stai parlando Lollo? Cos'è? Cos'è? Eh con Marco Chiaro? Come che è? Boom Ti pongo il gol Eh? Allora? I can Entonces Quien 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 Puedo Tu tambien Gaby No Gaby Tu tambien E che? Hello Hi Bo Vale Lo che speran son Uno Dos Tres Gaby Uno Dos Tres Gaby Perfetto Lo che è salito Ha salito Chicos What the 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 Mi ha inviato La richiesta Non mi ha inviato Niente Lollo Ah Perfetto No l'ho vista Gabriel Por que Está bueno Yo tambien Normalmente Como Hielo Vamos A ver Que se Coquino Ma Donde Estan Wow Grande Victor No Che fai Cocco Coccolea 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 Ola Cocchino Cocchino Cocco No No Victor Doble splat Chi è Cocco? Il mio Pappagallo Cocco Oh oh No Grande Grande Victor Codice partito Basta Cocchino Il codice partito Non me lo ricordo Due Sette Boh Nove Quattro Una cosa così Zio Prova Che c'è guapo? E' guapo Oh 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 Nooo Nooo Noo A ver a ver Nooo 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 Nono Nooo No 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 Dos, dos, dos Ayuta, ayuta Wow wow la password Mickey tanto adesso vado a rifare la stanza aspetta vado a rifare la stanza tranquillo wow 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 Robin perfetto wow l'ha messa l'ha messa vamo 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 vai 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 paulino vai paulino ok che c'è cocco? vale 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 no no igo di Mickey lollo e igo di Mickey bella doble spot doble spot che finale ragazzi ora 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 voi ir resettando ora resetto si buon partito chicos eh Miguel eh Miguel ahora voy a resettar todas las personas que que habían han jugado entonces voy a hacer nuevo 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 el codigo de la hora el codigo de la hora será 6 4 2 8 los últimos dos esperan los últimos dos the last two people waiting l'amico lo accettano l'amico lo accetto donde estas jugamos sin problema eeeh boom bazzuccarp bazzuccarp los dos esperan y ahora bazzuccarp los últimos dos ahora del equipo esperan en el próximo partito y jugarán Thor y Noni inserisito attraverso eh Lolo el codigo es eeeh 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 mhm 17 quale es el codigo claro Thor claro spettator los últimos dos spettator entiende spettator los últimos dos que esperan los últimos dos del listado esperan y juegan en la siguiente y vamos a jugar este partido termine Miguelado ahora estarás lleno y fuerte para vamos bazzuccarp no si ah tenía que cambiarme de cosa de roba de vestir bala aquí cuidado vale ah ah do do you main that weapon mmm que es main forti ceo vale 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 oh ah 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 oh 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 bella 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 se quella è la mia arma primaria non lo so perché io non ho armi io gioco adesso ormai non mi interessa più arma primaria non lo so in questo tempo io gioco con questa armatura perché mi piace oh mio dio 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 no 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 oh mio dio no no cocchino no vale boom e il dottore e il suo equipo vanno a tomar porcubo ehm me lo si con il pezzo vale e voi hasta luego tisano finocchio chi sono los ultimos dos chi han sido los ultimos dos qualcuno ha visto chi sono stati gli ultimi due aspettate eh gli ultimi due che adesso per evitare ho messo il timelapse no hai visto tibon adios che è lì eh miguel entra teniamo un posto libre ti ho a una hai un posto libre intanto se chi han chiede a unirsi se ne une tibon tibon ma come mai non va indietro la live no non mi piacciono più i samsung tibon non mi piacciono più i samsung sorry ok facciamo così boom bazookan fa un'altra volta tor chi è stato l'ultimo raga chi chi ha sido è l'ultimo è l'ultimo è l'ultimo chi ha sido chicos aseslo onesto chi ha sido è l'ultimo nadie che habla vale intonsi alla mia maniera alla mia maniera è robin anzi io hanno mic e marzo perfetto grazie intonsi io che è il secondo perfetto chico mi rice per favore sempre l'ultimo è l'ultimo del biennestoy con gaurio senti buono ho messo un po' di di lag non so se hai visto così almeno inizio a giocare un po' anch'io perché mi sto rompendo le palle a essere sempre spiato diretto dai mar grazie io non cado in basso sono ancora in piedi puoi trovarmi lunedì martedì mercoledì giovedì ti bonca di basso come l'md il codigo non interessa il codigo perché vuoi resettare la l'um non ti preoccupi faremo un nuovo codigo anzi miguel appuntalo tu appuntalo tu por favor scrivi tu il codigo che chieres sin problema ma ti bon c'è c'è fantastic c'è fantastic nella nello stream e ti bon se no gli dicevi di venire veniva credimi l'altro giorno sono andato a parlare un po' con lui si ricorda e dice che gli piacciamo tutto questo è bello sono andato a salutarlo in in un live che stava facendo di un editing siamo stati lì una mezz'oretta mentre parlava ooooh 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 boom boom bah piano piano tranquillo credimi che non penso che sia impossibile almeno non per noi no grande 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 Gabri grandioso bravissimo vai mickey vai mickey come un pazzo mickey vai mickey è tutta tua io tento di ah è già morto perfetto è caliente chi è è caliente chi è sta caliente chi è andando andando chicos vai 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 no no cazzo cazzo nanda 28 22 vai noni vai noni vai noni vai noni vai 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 cazza ti Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn oh 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 no 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 vamos 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 un minuto oh timón oh hola facu hola facu espera que ahora haré una nueva y no te preocupes sofia hola hola bienvenida chicos saludáis todos sofia por favor bienvenida timón timón non puoi entrare tu timón no papá hai fatto la estanza timón hai visto sofia aquí la chica siempre bienvenida quando entran saben que pueden encontrar todos los chicos más educados no gabriel gabriel aquí nadie elige nada es la suerte que dice como nos han hecho encontrar todos juntos la suerte elige sofia tu juegas boom facu y javier fuori la prima ok timón e dopo chi rimane ultimo delle due squadre fuori ed entrano javier e facu pero como va esto va Miguel va que merci Lol que realiziamo la 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 coda cada dos matches cada dos mes e empezamos la stanza nueva e lo che dimostra che sappiano fare il lavoro di Ost, giochano due partiti io ora, per esempio, quando termino due... oi, 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 tor, mare, no, 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 cuidado, chico, porfa poi uno lo crea e poi, non lo entendo, uno lo crea, io lo faccio e tutto va nel partito del chico dopo il Bon, l'ospite della stanza Ioana, per esempio hola, giappones, friend, hola, hello, how are you? I think all good che dice, che dice? Sofia, hola, Angel, buon gioco, thank you hola, Angel, che tale stas? Spero tutto bene mio figlio, e poi Sofia, 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 che dice? Non lo ho leo cuento algo, che te cuento algo, te cuento che, nada, questo canale non è mio il canale della persona che, di tutto quello che stiamo giocando in questo momento e siamo giocatori, e molti di noi, anche amici, che non abbiamo conosciuto qui e, nada, questa è la lunga storia normalmente, sta anche mia moglie, Jess e, nada, siamo un canale normale cioè, normale, non normale perché, siamo tutti gamers quindi, a noi non interessa interessa la tranquillità poter giocare chi viene, chi passa per qui sempre trova persone che vogliono giocare questo e, ti direi più normalmente, se mi room sta pieno sicuro, hai persone che stanno facendo un partito esperando per giocare tutti tutti quindi, le persone si possono unire al partito di altri amici per qui niente di che abbiamo mille nazionalità differenti ora, qui hai alemanesi hai espagnoli creo argentino creo italiani chiaro, anche chiaro, chiaro chiaro intentiamo sempre essere più educati con le persone perché il rispetto tra persone fa tutto più divertito e se hai rispetto non hai bisogno di fiducia e cose così anche è il mexicano, chiaro viva Mexico è sempre chiaro, chiaro Sofia siamo una piccola comunità uh grande grande timone e nada il menso e la tripa ahahah ahahah e sono ancora lì non mi hai calcolato oh mio dio ah ma non sta parlando con me io pensavo ah aspetta forse si Ioana ah ah Calamaco mi ha scritto no non è Calamaco che mi ha scritto oh non ho visto chi era ultimo chi erano ultimi chi ha sido ultimo chi ha sido l'ultimo chicos io non l'ho visto bon chico onesto chi ha sido los últimos io non l'ho ricevuto Miki e Victor perfetto metterli in pausa Miki e Victor e spereranno tu Ioana hai fatto la hola hola suite Ioana ricordate dibuat la luma poi mi vai cambiando eh non 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 siamo equipi hablamo sempre di equipi ecco 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 qui hai solo una persona che organiza un pochino dell'altro e despues hai tutto un organnico che trabaja bene perchè ora le ultime delle 3 settimana di live o di juego lo stiamo facendo molto bene, anche senza streaming perché quando io non sto qui, grazie al Discord, c'è un montone di persone che si organizzano il partito e io... Ola Keke, Ola! Eccola la Keke, che tal? E oggi siamo un gruppo, tutti siamo un gruppo, Víctor Víctor, ma questo nel cielo, sempre c'è questa cosa enorme qui e la prima vez che mi hai contato io? Che passa, oi? Ma hai tipo un concorso di mongolfiere? Ma che modalità è? Che modalità è? Ancora con la... Ah, vale, 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 zona splatta Sofia Ioana Ioana Ma in serio? Tu conosce? O eri tu Ioana? No sta facendo una broma Ioana Che cosa? Facciamo una... un... al voto Oh! 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 Wow! Grande Tor! Perfetto! E' vera, eh? E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! Come mo' molliamo? Come mo' molliamo? Sempre DOC Alessandro non esiste Esiste solo un un pequeño calamaro che cuoca che si chiama Doc e nada mas questo è lo importante hasta che questo calamaro tiene la tinta come non sei morto come non sei morto come non sei morto si, demasiado i bien i bien te dico no aiuto 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 bufu bufu come bufu sei un bufu no io mi chiamo Alessandro mi chiamo Jessica e nada vivemo in Spagna espanoles non so se espanoles però espanoles in Spagna mamma no cocco e tu oggi non dici niente vamos adelante vanno a cerrarlo ah Miguel ma Johanna amigas de verdad o de que perdona se pregunto ella vive cerca de tu pueblo o que Johanna la has hecho la room Johanna la has hecho la room tranquillo ti bon ci vediamo dopo dos veces a ver se Johanna ha hecho la room a ver se Johanna ha hecho la room codigo Johanna codigo po 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 e grazie grazie allora è che ho scoperto questo canale grazie a un mio amico a un amico mio aia, aia un amico tuio quindi un amico tuio deve essere un amico mio anche questo è la verità e, e, e buon amico avete lasciato il like perché se non lasciate il like poi, poi, despues la abuela Jess se enfada e dice che ho una live fea fea, fea no? io non voglio questo voglio 10 milioni di like al secondo questo è stato colpa di Denise quindi abbiamo che dire a Denise scrivele, Caleb scrivele scrivele, Caleb e, Johanna bailiamo siamo dettodo ecco chi no è a morte i just joined we see you doc quanto è che il faccio ok il numero allò vanno Sark Sark, Miguel chi sta conmigo Sark, Miguel in mar buono buono wow che modalità di miei mercoledì coccolo eccolo a oh oh tengo tengo que moverme tengo moverme tengo moverme vamos vai 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 compañero hanno subito che cos'è la riva? no 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 hola 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 wow invece vale wow wow no perfetto perfetto faccio no 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 es un bebe es el loro tengo el loro un loro africano che habla e nada sta qui a mi lado che habla è come un bebe si però habla sta aprendendo a hablar un montón di idiomas va 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 no no grande kuma grande kuma hello hello japan friend hello welcome welcome here to our channel vamos wow wow esto pasa coco no china china chinese maybe you are chinese because i see the cats in your photo bye 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 chicos chicos me dejan me necesito necesito dompar vamonos 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 ah no 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 ahí 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 ono ahi ostras oh sono miei, sono miei lo voglio déjamelo déjamelo sono miei no grazie oh oh oh, non me lo credo 3 in 20 eh, sì, mira ne ho borrato 2 antes di cominciare il diretto quindi noi sempre abbiamo più solo che sempre ci sono persone che facendo cose male e si vanno perché io le do il ban io sono lo che tiene il ban facile e mira Sofia se tu juegas a noi non interessa la tua edad se sei una giocatore questo canale se limita a questo quindi non non so quanti anni hanno i miei compagnoli del gioco perché non mi interessa mi interessa solo giocare con loro quindi non ho problemi con questo non mi interessa la vieca confiabile che è una vieca confiabile topa Miguel allora Sark e Kuma afuera Sark e Kuma Sark e Kuma Sark e Kuma fuera potenzialmente corretto c'è cosa perdonai si si è cucato anzi mi ponderai este 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 si no este este madre vamos destructivo esto fashion club no handicap match vale Sofia qui siamo quando vuoi vuoi venire vente senza problema aggiungi tanto ogni 10 stiamo qui giocando un po' con gli amici fino poi me lo diga così farà una una camera per giocare quindi chi vuole apuntarsi lo deve dire ora voilà questo è il secondo partito che facciamo nel LAROM di Ioana quindi perché? perché? grande mar Ioana se tu già stai da OST che ti apunta? su una altra persona? se hai qualcuno che ancora non ha fatto se no classico vamos tutto nella mia lo farei io ora così giochiamo tutto con una buona conexione di OST wow grande Ioana bravissimo vamos chicos che passa? che passa? da dove viene? da dove viene? wow nooo stavo minando il chat malditto sia il chat nooo tranquillo 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 Ioana calmate 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 un secondo non ti preoccupi sì 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 grande chicos, è stato, bien, bien, bien uuuu, mira che stile, Caleb, tu sei por qui, mira il stile oh Víctor, non vediamo pronto andiamo meno, eh lo sei, lo sei, lo sei, non è per la mia culpa, no, 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 Johanna, eh, coi handicap match, sì, 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 parte sì, vas tranquila, parte in questa maniera, Johanna, no, eh, Gabi, Gabi, no, 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 tutti, tutti, Johanna, tutti, adios, Gabriel, Gabi, mira, voy a fare io la ROM, dopo questa, quindi, espera, e ti direi Pem, pere, pem, 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 pere, pem, 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 eh, Caleb, pon la canzone, pem, pem, de Letra Lamborghini, mira la, sembra se non la s'vista, si chiama Pem, 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 Lamborghini, nananananam, facu, mar, facu, mar, mar, facu, si, lo sabia, lo sabia, oh, Caleb, tu buscalo che ti è scritto arriva oh, Jaime, Jaime, eh, 3 contro 3, perfecto Jaime, tranquilo, voy a fare io la ROM, dopo, perché, Johanna, tiene una buona linea, ma non, così, tan, tan buona da, 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 da compatibile, credo, con la tuya, perché, también la vez passada, ha passado esto boh 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 facu hola faquino wow giovanna, perfetto guada, 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 guada oh, no, grande, Victor, bravissimo è stato molto bene oi Kaleb Kaleb igual che se le dà vergogna a giocare in live io pago la live dimmelo tanto ora sappiamo tutti chi è conectato quindi già si può giocare senza live sì Gioana hai migliorato un montone Gioana è verità e vanno impostazioni avanzate io vorrei io anche dove vai? dove vuoi andare? il mare è una tavola blu 22 20 vale Kaleb 22 20 3 3 vanno 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 Gioana vanno 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 qui comincia la storia wow 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 kuma dos paccaro con un tiro boom no oh bini wow kelly i'll leave me deep without you oh ostras chicos ana vera solo yo yo ana tranquila yo ana pasa nada estamos los dos logico kelly dos tres cuatro cinco seis siete claro que no pasa nada denis 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 bam torre immobile hello denis hello 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 sta denis sta denis bam e lo so se è arrivato ultimo mar non mi fate ripetere sempre le stesse cose non ho capito anche gli spagnoli gli inglesi se è arrivato ultimo aspetti fai la partita dopo non è che non giochi sempre così facciamo dai dai premi premi che chiediamo cucar premi dale minchia dosa misdad l'ildiva prima persona welcome boot codi che è un boot e i boot piacerà a tutti perfetto stai no grande Kelly buona jugata buona tira boh io ho ancora di cucinare ragazzi questo lo sapete wow wow denise wow denise why you kill me i wanna be your friend and you kill me ok thank you this is the rules ok no 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 denise no 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 e ora vai por denise vai vamonos wow vittor e baca da esta cosa baca che pagas la alquilera o te pagan lo de splatoon por estar ahi oh 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 a nadie le interessa mas della torre ecco ecco lenda guau 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 denise Facu, abbiamo dovuto fare una volta E poi scrivere Ostra Hola Adam Hola, hola Che tal? Bienvenido Welcome No Brava Kelly Oh yeah, tranquillo Caleb, tranquillo Perché ti alterasi? Tranquillitate un pochito Sientate Tomate un passito di acqua con un po' di azucar No Venganza, dos a dos Grande Sorry, I can speak just a little of English Spanish no problem But French no I'm just Italian Italian Vieni, vieni, vieni Buah, che palizzo Che palizzo Mostra You play You play Ad Splatoon Allora, chi era? Chi erano gli ultimi due, raga? Tranquillo, Mickey Tanto adesso rifaccio la stanza Chi erano gli ultimi due? Alguien ha visto chi erano los ultimi dos? Caleb, has visto? Mariana Mariana Jejeje 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 Sorry Sorry Sorry, sorry, sorry Bam, bam, bam Bam, bam Bam Denise Jejeje Jejeje Parapapapapapam Parapapapapam Parapapapapapam Parapapapapam Parapapapapam Cocchino dorme Il mio amore fa la nanna Here we go Ciropo cade basso come l'MD Io non cado in basso Sono ancora in piedi Oh 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 No 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 Che passa che la bassa Ora mi Bazzucarp e Caleb e nada mas Wow Che è passato? Kenny? Bu 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 Aiuto Wow 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 Binyam Wow Già sta Già stiamo Ioana Già stiamo quasi terminando Tranquilla Wow 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 Gabi wow 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 Further Binyam The Punisher No, 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 no Por qué, por qué, por qué no has muerto, por qué no te has muerto Why you don't die Don't die, don't die Yeah No, no, Caleb, dove sei andato? Atrás, ha ido atrás Buah, genio del male E vamos Gabi Ouch, Kaylee Vamos, 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 vamos Kaylee Onde está Caleb? Eccolo Eccolo 20, 20, Caleb Oh No Atrás Atrás, Gabi Atrás No me lo creo No, adelante Io mi lavo pa' delante Io mi lavo pa' delante Can I see? Binyam No Vamos, vamos chicos Alla festa della castagna, dai No Non me lo creo Non me lo creo Che tonto Che tonto Sono lo YouTube Lo YouTube Ma stonto Dello YouTube A chi, a chi, Gabi? YouTube YouTube Iphone Iphone No, non ci va la N Michele Iphone La N Non si Non si Non si scrive Si pronuncia Solo Kaleb No, no Victor E Kaylee Afuera Chicos Nuova Victor E Kaylee Victor E Kaylee Sì Victor E Kaylee Victor E Kaylee Victor E Kaylee Ora mi harai un tatuaggio Victor E Kaylee Victor E Kaylee Kaleb 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 Bufo Kaleb E' proprio Un bufu No, 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 no Si, si, Gabi, Gabi Aquí nadie Elige nada E' todo automático Perché, se, no, si, no, si, ya Necesitamos de horas Por hacer una cosa Figurasi Si, tenemos que elegir A dar Una persona No le andrà bien Cómo no entré Che dice Kaleb Dos personas Solo estamos Ahora Che sad Che guay Cocchino E' proprio Bello Ma Che passa Vale Avemo una nueva Algo Raro Algo raro Chico Nueva Nueva Algo raro Chico Ok Nueva Ahora Vale Chico Yo soy un youtuber Solo Uno youtuber Alone No Kaleb Youtuber Youtuber Youtube 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 Está lleno Chicos Yo no tengo nadie Michele l'ho scritto io l'ho scritto in spagnolo non posso entrare ma che sta passando no, in serio allora, facciamo la cosa bene 17 persone 17 persone in chat io da solo me voy voy a jugar non lo so, a Sparkle 2 voy a jugar a Zelda, voy a jugar a Poké a Sniper Clips voy a jugar aquí 17 persone solo solo io vale no Caleb, mucha persona ora vale, me voy espera, facciamo così chicos, può essere che il problema è lo mio demasiate persone oh, mirate oggi che ho fatto mira se tu gli dai questo non si muove tu di qui non può passare debaixo del pito del tio qui non passa questo è un pito non è una cosa strana vale non passa se è questo ti vuoi dar calcio quello calcio te lo puoi levare hasta que no se enfate se va intende? teng teng se enfate se va il tio e spese se va da qui provare cioè io lo levare hasta la puerta qui con lo calcio e l'interiore qui eh si creala tu Caleb si per favore perché creo che il problema è mio oddio 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 I wanna feel you back I wanna change you back voi ehm VAMONOS eh io non vedo Caleb ok cazzo amiche un po' prima ma dov'è Denise dove sta Denise Denise Victor e Kaylee Victor e Kaylee afuera Caleb Victor e Kaylee e Kaylee tenia che sperare Kaylee, Kaylee, Victor e Kaylee, tengo che accordarmi sto snombre, non se perché ma tengo che accordarmelo, V, 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 Victor e Kaylee, andà, voilà, bravo Gabi, voilà, vuola Foxy, vuola come un pájaro, vuola, vuola a tutti e vuola pure, vuola a Cocco, Cocco vuola, Victor e Kaylee, Victor e Kaylee, Victor, 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 e Kaylee, credo che Victor s'ha muerto, ah no, vale, vale, ah, non si doveva, io vuolo, io vuolo, tu vuola e lo vuola, guala Pop, vamonos, mi stai cargando, oh, super, squidian, doc, 시다. Con hier, holi! Cos'il va aUSlèo aUSlèo? Melo, glionissimo, meno, anales! An alee! Geniaini, may maar zeggen "'ben am pelo'", no wie afu objection wute, Lopi nailed destruction, lopi della��� Roverifola.... Es oilso vi fooooh! Hoche un curso de japanesso a In youtube, Saliuon gol moi bien, vai Miki vai Miki vai Miki sei un grande Miki sei un grande vai Miki vai 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 Sark vai vai Cristo vai bravo un plauso anzi no un plauso la Damas buono buono non ce la faccio da solo aiutami figliolo sono vecchio già 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 Miki e Kuma fuori Miki e Kuma fuori Kaleb Kaleb Cochino Miki e Kuma no Kaleb no che è Dio no no zoo nooo in serio Kaleb Jess l'è vendita l'è vendita per mi hanno dato 2 camello e 10 kg di arroz e 3 kg di parmigiano e credo 10 litri di lecce è solo per fare la cosa sempre migliore e in tua cabeça tu sai che c'è un errore perché mi perguntas questo quindi la prossima volta Caleb ha dovuto fare lo migliore e tío il lecce ora come ora vale un montone 10 litri di lecce è molto lo camello vale poi do la mia corsa incontro a alguien che mi dà per un camello il Dragon Ball il Dragon Ball nuovo non lo so sì insomma claro le persone in mi casa che grittano come se fosse il mercato del pescato sapereis no e per il giorno e per la notte a ogni ora pesce pesce parecano che hanno che vendere sapereis 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 e per lo che come Fox 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 è meglio dicerle a Jess che le compro un vestito entiende algo per vestirsi che non da come perché come un montone lo comello lo comello come un pochino meno Caleb e va o no no Michele ma dai ma ti sembra che possa andare su Discord continui tu la live ti dico cocchino che c'è cocchino wow Caleb wow Caleb wow Caleb wow 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 e se pongo lo do secondo il mass della tenzia tio è un altro player come un pochino come un pochino come un pochino come un pochino ha mil trabajos entre ellos ha la insegna inglesa alemana e castiglano e tambien trabaja en una panaderia wow wow quien ha quien ha sido ven 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 no por suerte lo hacen bien todos tiene por enseñar idioma tiene una manera Coco basta wow 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 Kelly wow Kelly sergio 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 e scrive che non si voglia che c'è cochino che c'è cochino no 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 yeah Vise Ah no, Vile Che t'ha Sergio Il pelluchero Wow E wifi Eh? Has visto Caleb Ora che ho puesto un pochito Cioè, ora che La persona lo ve Mi imagen Totalmente Ya si habla di otro numero Caleb Eh? Te gusta esto Retrasso de Siete segundos Vai, parti, parti Caleb, parti, parti No Chicos, chicos Chicos, io creo che Voy a cerrarlo un segundo Asi empiezo a cocinar Entendéis? Voy Cocino Asi en Máximo Una hora Puedo empezarlo otra vez Coco cocina, claro Si, chicos Os envio Mira Yo ahora empiezo solo a hacer una cosa De comer Asi lo pongo Ya En el fuego Enciendo otra vez Entiendes? Entonces puede ser que media hora Y después pero Pago para comer Cocco Ahora te metto en el forno Te pongo en el horno Así con la patata Eh? Ya está Nel horno te pongo No 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 me rio No te ne creerete tu Allora no me está ahora Eh, beso, allo Vale Ostras Oh Misión Un Ya está ¿Qué necesito? Falta de atención ¿Qué te falta? Eh? ¿Qué te falta? Eh, sí Ya está, chicos No, no se caiglaba ¿Qué? Dai, vale, chicos No vemos en un ratto, ¿vale? Un abrazo a todos Voy a poner el sugo A cocinar Y voy Y vengo otra vez Entonces Nos vemos en un ratto Hasta luego